Buongiorno a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Chiaramente queste sono esperienze che per me sono importanti, mi hanno dato tanto. Tanto è che quando incontravo la collega che mi diceva bene, si è contenta di essere dominata, brava e fa un continuo lavoro, nonostante questi giorni non funzionano. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 anche dove c'è un rapporto sano con la società d'accoglienza, io ho vissuto un'educazione basata sulla autonomia, ma anche sull'accoglienza, 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 questo è quello che studio, posso dire che i bambini di Roma come questo non mi hanno un po' di vedere, nel senso penso sì, però questa è una base, come dicevo, ognuno ha la sua specificità, come insegnante voglio aiutare dicendo questo, perché un bambino ha la sua particolarità, è chiaro che conoscere la cultura generale di appartenenza è importante, ma ogni bambino deve essere conosciuto per il suo particolare esperto, e quindi il compito nostro insegnante è quello di conoscere la realtà sociale del mondo che abbiamo fatto, la loro insegnatura è differente, perché bisogna cercare di entrare il possibile quello che è questo primario dell'imprendimento, che è la famiglia, e quindi cercare di conoscere dei più sbagliati punti di vista, del terreno di piano, della comunicazione, della collaborazione. In questo modo, allora, questo non può dire che in questi anni andiamo a stabilire una didattica specificità, non è questo l'intento, l'intento è di conoscere quegli organizzati, quelli strategie, quegli accorgimenti che permettono di raggiungere degli obiettivi, e l'obiettivo dell'esigenza della scuola di bambini è di conoscere a tutti i bambini quelle competenze di fisico che poi potranno valutare il bambino adattare a scuola di maglia senza che la sua diversità diventi svantaggio. Questo è il nostro obiettivo fondamentale, quindi valutare le differenze e eliminare i problemi di base, adattare al bambino la coscienza della propria identità, cioè non fino a due bambine che ha una propria identità, questo è però per tutti i bambini, ma che accettare la sua identità non vuol dire dire avere la propria. In questo, la scuola di infanzia, secondo me, è un ruolo importantissimo, è un ruolo più importantissimo, perché parte da l'interno di infanzi, cioè, in un certo posto c'era da... quando i bambini sono ancora piccoli, e quindi sappia o che c'era un ruolo educativo, all'interno di cultura, sappia che c'era un ruolo più grande con la famiglia, e questo non può che portare a raggiungimento di quei tra questi scuola che parlavamo. e il raggiungimento di quei risultati sono un po' e sono, perché l'esperienza che mi sono fatta, fondamentale, che nel momento in cui l'insegnante di scuola primaria si vede allevato il bambino dalla scuola dell'infanzia acquisito, quindi eliminato per il tempo iniziale che ci potrebbe essere, questo è rispondamentale. e diciamo che io, purtroppo, i bambini di norma difficilmente hanno cremato nella scuola dell'infanzia, da tutti i fatti, diciamo, i bambini vengono affidati dai non-non, cioè dai non-non, cioè dai non-non, quindi diciamo che questo crea chiaramente una difficoltà di quella dell'infanzia. Il bambino non è una situazione di libertà di spazi, di libertà di tempo, quindi si ritrova da un gioco bianco nella scuola primaria, con dei statici, con movimenti limitati, e questo che crea il nostro equilibrio. Io ho porto qui il mio sogno di diventare insegnante, e ho porto qui il sogno di vedere, e che è tanta, però deve essere ancora più spesso, di vedere un bambino che attraverso un corso educativo precoce riesce a sviluppare tutte le sue competenze e a diventare protagonista della sua vita, proattore consapevole nel tempo della società, e a ciò che concludere. C'è un risultato che secondo me è un parlamentare, e questo lo possiamo fare in qualsiasi anni. Il bambino è un essere incredibile, è curioso, vuole sapere quelle delle aspettazioni, ma... Sì, sì, è un risultato. Ma, diciamo, e noi lo vediamo nelle sue domande. Questo potendo insegnarsi una sfida a qualche cosa che hanno staboli. Ci si pone che, secondo me, è un'emergenza e i due privati. Ci sono quegli insegnanti, come abbiamo parlato, che coinvolgono, diciamo, sulla passione, che ci hanno trasmesso della fiducia dell'altro, che hanno trasmesso la parola, non c'è a noi stessi. Ehm... Dobbiamo essere insegnanti più simili a livello didattico e a livello di strategia. Dobbiamo essere insegnanti, secondo me, per canzioni, per passione, per amore, e come ritambiare e cambiare un mani futuro. La nostra società la creiamo noi. Ehm... Secondo me dobbiamo essere insegnanti e essere riccoli di cambiamento, come per tutto il nostro figlio, e per tanti interventi. Questo mi piacerebbe essere. Questo vuole vedere nelle mie esperienze, e questo dovrebbe accadere nella società. In questo modo, noi avremo solo un successo scolastico con tutti i bambini, ma anche un successo sociale. Io, in modo, voglio concludere con una frase che ha detto nel suo dicesimo, che dice il donatore più fragile, e può cadere. Accenderà sempre nel senso sintonia con la commissione.